Da poco, avverto una magnifica presenza. Questa presenza è quella del nostro grande fratello d'amore. Egli mi dice, sono felice di leggere nei vostri cuori. Sono felice di sentire l'immenso amore che si schiude e che vi illumina. Presto, tornerò tra gli uomini, ma solamente gli esseri dal cuore puro mi riconosceranno. Non tornerò come colui che gli uomini hanno chiamato Gesù, tornerò nella mia luce e nella mia gloria. Tornerò per aiutare l'umanità, ma potrò solamente aiutare e soccorrere coloro che avranno aperto il loro cuore, coloro che mi permetteranno di entrare nel loro cuore. Quindi io dico, a voi che amo infinitamente, ancora un piccolo sforzo. Ancora un piccolo sforzo d'amore. Non potete sapere quanto è bello un essere umano che si risveglia all'amore. Noi lo percepiamo anche dai nostri vascelli. Lo percepiamo anche in altre dimensioni, nella dimensione della realtà in cui ci troviamo, perché l'amore non ha alcun limite, né nel tempo né nello spazio. L'amore che risplende nei vostri cuori, può arrivare fino all'altra estremità della galassia. L'amore che emana, da voi è un immenso tesoro. Siate certi che siete ammati dai piani di luce e più vi offrite più ricevete, più riceverete. Io, vostro grande fratello d'amore sarò sempre di più accanto a voi. Sarò accanto a tutti i puri di cuore, a tutti gli esseri che, con disinteressamento e amore, hanno servito la luce. Coloro che hanno creduto di servirla attraverso i beni di terza dimensione, della densità, coloro che hanno creduto di servirla con delle false preghiere, dei rituali, non illumineranno. Io e i miei fratelli dei vascelli potremo essere vicini a tutti coloro dal cui cuore scaturirà la luce. Per questo è importante che continuiate ad amare, che continuiate a servire sinceramente la luce. Io e i miei fratelli dei vascelli come possiamo trovarvi fra questa immensità di esseri umani? Grazie al vostro stesso splendore, grazie all'amore che proviene dal vostro cuore. È molto semplice. Come vi ho detto, viene percepito ben al di là del vostro pianeta. In questo modo saremo sempre accanto a voi per proteggervi e aiutarvi, qualunque cosa accada. La mia vera missione comincerà presto. Quando sono venuto su questo mondo tanti anni terrestri fa, ho detto che tornerò e quando tornerò gli umani saranno diversi. Questa volta io vengo veramente per offrirvi la luce, ma so che a differenza di duemila anni fa voi percepite questa luce. Ci sono voluti duemila anni affinché sbocciasse nei vostri cuori e che poteste percepirla. Io Sananda, come tutti i miei fratelli che sorvegliano questo piccolo pianeta, siamo felici del suo futuro e del vostro futuro, poiché qualunque cosa succeda sappiate che non avranno le in comune con la vostra attuale vita. La vostra vita attuale si conclude, il vecchio mondo crolla su se stesso per risplendere meglio nella sua nuova realtà, proprio come il vecchio è prossimo a morire in voi per permettere al nuovo di risplendere della sua nuova bellezza. Non vi dico a presto, vi dico che io sono presente accanto ad ognuno di voi e lo sarò praticamente fino alla fine della vostra strada. Se vi sentite in difficoltà, qualunque sia la difficoltà, chiamatemi, e in un certo qual modo io verrò a confortarvi, ad offrirvi tutto il mio amore. Siate certi che io vi sentirò. Sento sempre le parole che provengono dal cuore, le parole sincere, ed in quell'istante io vengo ad offrire il mio aiuto. Ora vi lascio. Continuate. Continuate a schiudervi su questo bel cammino di luce, continuate a conservare la fiducia in voi stessi, continuate a conservare fiducia in tutto l'aiuto che avrete. Non dimenticate ciò che vi ho detto. Il vecchio mondo sta crollando, come la vostra vecchia realtà, affinché rinasca questa magnifica realtà, questo nuovo mondo, in voi stessi all'esterno di voi. Io che avete chiamato Gesù, che avete chiamato Sananda, che avete chiamato Grande Fratello d'Amore, io sono accanto a voi. Poco importa il nome che mi date. Poco importa il nome che mi darete. Solo il pensiero che vi collegherà a me avrà importanza. Siate benedetti. Siate benedetti. Grazie. Grazie.